Chi non conosce Je t'en moi non plus, la canzone condannata dalla Santa Sede, messa all'indice e censurata da tutti, ma Seth Gensburg ha scritto con questa canzone un pezzo di storia della musica, ma pochi sanno che questa canzone ha creato un filone di centinaia di cover sulla scia di quest'idea e hanno creato questo gruppo storico di canzoni che si chiamano Orgasmo Song e Fabio Casagrande Napoli ci racconta tutto in un libro bellissimo, Orgasmo Song, raccontato in un minuto. Grazie a tutti